Abbiamo scoperto questo nuovo modo di cantare, con l'accompagnamento ritmico di un servizio bicchiere, che è diventato per noi uno strumento musicale, la cappa song. Abbiamo imparato i movimenti ritmici in guard. Oltre a divertirci insieme, abbiamo scoperto manzoni che possono essere cantati con questo strumento, e scoperto manzoni diverse da quelle che noi ragazzi ascoltano di solito. Una di queste è Mamma Maria, una nazionale di successo di ricchi e poveri del 1980 aprile. Nella nostra versione c'è anche il passaggio del bicchiere. Adesso vi presento i musicisti saltanti. Ecco Chiara Levizza, Chiara Sedola, Alice Sedola, Angelo Goya Angelo Montefusco Francesco Paterino Ubaldo Zaccarbino Ubaldo Zaccarbino Maraglissa Cavoletta Federica Scalzone Salvatore Salvatore Maturitano Salvatore Maturitano Rosano Sano Salvatore E ci sono anch'io, faccio il scuccio Grazie. 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 Grazie.